Il rosamento delle piante. Venerdì 29 giugno, Santi Pietro e Paolo. È il centottantesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 185 al termine. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 21.06. La luna si leva alle 22.03 e tramonta alle 6.29. Mentre sta uscendo dalla chiesa di San Pietro di Castello, il doge Giovanni I viene assalito da un gruppo di rivoltosi, arrestato e costretto ad abdicare. Successivamente, tonsurato e ordinato frate contro la sua volontà, viene inviato sino alla fine dei suoi giorni in un monastero di grado. Le previsioni per domani. Permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo sviluppo nelle ore centrali, di moderata attività cumuliforme in montagna, associata a probabili locali temporali di calore, impossibile sconfinamento in serata sui settori pedemontani. Temperature in ulteriore aumento con valori sopra la media del periodo. Grazie.